Bella raga, benvenuti in un altro video del Capitano, beh raga, come da titolo parleremo del nuovo dispositivo di casa Samsung, cioè il Galaxy S7 7 normale, 7 Edge Questo nuovo dispositivo che è stato lanciato da poco, andiamo a fare una breve chiacchierata per vedere le varie caratteristiche, che cosa è cambiato E se veramente nell'utilizzo vero, proprio del dispositivo si notano questi cambiamenti Quindi, lasciate un bel mi piace, ovviamente se vi è piaciuto il video, e incominciamo subito Oh no! E' bene raga, allora, io ho aperto, do una breve occhiata, si fa un po' ridere usare un iPad sul sito della Samsung, ma va bene lo stesso Andiamo a vedere questo S7, allora, premesso che io l'ho provato, l'ho provato perché mi sembra da 1€ c'era la prova, c'era il dispositivo e l'ho provato Andiamo a vedere prima le caratteristiche che dice il sito Samsung, le varie aggiornamenti E poi vi darò una mia opinione personale Allora, nel sito Samsung c'è scritto che la CPU è stata velocizzata del 30% La GPU del 64%, e anzi di 3GB di RAM, 4GB di RAM Su questo punto posso dire che tra S6 e S7 si nota quello stacco in più Possiamo paragonarlo un po' come iPhone 6 e iPhone 6S Cioè, si nota la velocità in più, la maggiore fluidità Però non è così grande da consigliare il passaggio Posizione della memoria Con l'S6 è stato introdotto il modulo quello non espandibile Cioè, come l'iPhone, la memoria non espandibile Può essere visto come un passo indietro Però, possiamo dire, molte lamentere da parte dei possessori di Samsung Perché sono sempre stati abituati ad avere una microSD da espandere Vabbè che il dispositivo mi sembra che parti da 32 o 64 Mi sembra 32 GB Che già come memoria storage va benissimo Aumentarla può essere sia un vantaggio sia uno svantaggio Personalmente io non mi trovo più Mi trovo bene senza l'espansione Però ovviamente ha dei lati positivi questa cosa Perché ovviamente non dovete spendere soldi in più per avere più memoria Comprate una piccola microSD e ci buttate tutto dentro Durata migliore della batteria L'S7 ha 3000 mAh, 7 Edge e 3600 mAh Allora, su questo fatto non posso dirvi delle opinioni personali Perché ovviamente l'ho provato solo al negozio Quindi non so, la giornata stress Vedremo con chi ce l'avrà in prova Oppure appena riusciremo noi del blog del Comico K3 ad averlo A darvi più notizie possibili Cercando un attimo di tenervi aggiornati su questo fatto Comunque dovrebbe durare di più Poi dipende molto dalla ottimizzazione software e mille altre variabili Come per esempio facendo un paragone L'iPhone 6S ha una batteria minore dell'iPhone 6 Però dura uguale Come è possibile c'è un'ottimizzazione software maggiore Questo c'è da dirlo La ricarica è rapida L'S7 si ricarica in 90 minuti L'S7 Edge in 100 minuti Un ricarica abbastanza veloce E va bene Ricarica wireless tipica E poi qua non dice in alto Una cosa che ho notato però È il lettore di impronte digitali Che è molto migliorato Non è al pari del 6S Ma ci si avvicina Diciamo è un passo più del Secondo me è un passo in più del 6 Però in meno del 6S Comunque è un buon lettore È stato molto migliorato Vi do delle mie opinioni personali Allora questo dispositivo mi ha convinto Sì mi ha convinto Per diverse ragioni Una che non ho detto prima è L'impermeabilità Hanno rintrodotto questa cosa Questa certificazione Che resiste all'acqua E ha la certificazione IPS8 Scusate se l'ho detto malissimo E questo è un suo punto a favore L'aver lasciato i materiali di vetro dominio È un punto Dà un punto a suo favore Anche aver ridotto lo spessore della fotocamera Ma più quello È il fatto di aver ridotto il numero di megapixel Da 16 a quasi 13 Ma migliorando le ottiche Questo produce E l'ho potuto verificare Delle foto migliori rispetto all'S6 Concludendo Vale l'acquisto questo S6 Volgo questa conclusione Per i possessori di Di già un Samsung O comunque un telefono Android Personalmente Non lo comprerei Ma non perché non mi piace Ma perché non mi trovo bene con Android Perché altrimenti Io lo considero Personalmente Il miglior Android per ora Per una serie di motivi Perché mi piace la qualità Costruttiva Ed eccetera Però se avete un S6 Secondo me Non spendete soldi Per comprare il 7 Perché comunque È come passare da un 6 a un 6S E potenziato sì Ci sono dei cambiamenti Però non valgono la pena Se avete un Un S5 Un S4 Un S3 O un altro telefono Android Vi consiglio di acquistarlo A mio parere Perché può Può soddisfare Le esigenze Di un Semplice utente Come di un Possiamo definirlo Un hacker Ma tenendo sempre Quali Una qualità Costruttiva Eccellente Beh raga Concludo questo video Lasciate un bel commento Se la pensate come me La pensate Differente Se avete Da dire Altro Se Mi sono perso Anche Qualche pezzo Da dire Ci vediamo Un altro video Del capitano E A tutto gas Che cos'è Che cos'è